Si è parlato in conferenza stampa del ruolo delle donne all'interno della ricerca che, come sottolineato, come in altri ambiti professionali, ha ancora un po' di strada da fare. Le donne sono molto presenti durante il periodo universitario, anche il dottorato, il postdoc e poi pian piano spariscono. Bisogna avere un occhio allenato per leggere i numeri, in effetti, perché molte volte si leggono le statistiche, si vedono tante donne, ma poi dopo è bene anche andare a vedere in che posizioni sono, in quali ruoli. Credo che sia stato molto importante a Trento aver avuto una rettrice donna, è stato un bellissimo segnale, però le donne rettrici sono molto poche. In effetti c'è un programma, anche in Unione Europea, di implementare la presenza delle donne nella ricerca a tutti i livelli, quindi sia nelle carriere, nelle scelte curriculari delle ragazze, e sia anche nelle posizioni, chiaramente, di dove si prendono le decisioni. Sicuramente è una situazione europea, e anzi mondiale direi, perché se ne parla l'ONU, la FAO, in vari posti, in vari luoghi, con chiaramente differenze nei vari paesi. L'Italia purtroppo è molto, molto in coda. È importante che tutte le persone possano dare le proprie capacità, le pari opportunità sono quelle, no? Tutte le persone che possano dare il proprio contributo, mettere a disposizione la propria intelligenza, la propria capacità, la propria creatività, per il bene di tutti quanti.